Uno tra i più famosi e amati artisti americani del XX secolo in mostra a Roma, al complesso del Vittoriano, fino al 12 febbraio. L'esposizione Edward Hopper raccoglie circa 60 opere realizzate tra il 1902 e il 1960, che coprono quindi tutta la sua produzione, prestate in via eccezionale dal Whitney Museum di New York. La mostra è curata da Barbara Haskell, curatrice di dipinti e sculture del Whitney, in collaborazione con Luca Beatrice, che spiega il filo conduttore del percorso. Un percorso nella carriera e nella storia di un artista molto noto, che ha corso sostanzialmente da solo, che comincia a studiare pittura in una scuola d'arte a New York, va a Parigi, trasferisce la lezione dell'impressionismo sul paesaggio americano e sviluppa tutti quei temi, tra cui la solitudine nelle città, l'attenzione nei confronti della luce, queste atmosfere metafisiche per certi versi che ne fanno uno dei grandi artisti del Novecento. Dagli acquarelli parigini ai paesaggi, agli scorci cittadini, fino ai disegni preparatori che considerava fondamentali e ci sono esempi della sua attività di incisore. Si inizia con l'autoritratto giovanile dei primi del Novecento e si arriva alle opere iconiche come Le Bistro or The Wine Shop, Summer Interior, uno dei suoi primi nudi femminili, e il successivo New York Interior, che ricorda l'impressionismo. C'è poi l'olio su tela di quasi due metri su Art Bleu. Lo studio sulle luci e paesaggi è evidente nel Light to Lights, Small Town Station, South Carolina Morning, Second Story Sunlight e Cape Cod Sunset. E una parte è dedicata all'influenza di Hopper sul grande cinema. Molti registi hanno interpretato la sua pittura, che si ritrova in diverse scene di film. Pensiamo a Hitchcock, pensiamo a Dario Argento, ad Antonioni, a Wim Wenders, soprattutto per considerare quelli che in questo momento ancora stanno lavorando. Wenders addirittura fece un paio d'anni fa una mostra fotografica di paesaggi tutta quanta dedicata proprio a Hopper. Direi che questo suo particolare modo di guardare la realtà sia stato fondamentale per uno sguardo cinematografico.